Oh vai, forse è un pochino di ritardo, ma ci piace, ci piace, allora, fai vedere se parti su YouTube Dal vivo, sì sì, dovrebbe essere partita, vai, ci siamo, ci siamo amici, amici sportivi di benvenuti sul canale YouTube Allora, drop list, live streaming, cazzo devo tenere queste due, sì, vai Ok guys, ok guys, ok guys, facciamolo, facciamolo Ciao ragazzi, intanto benvenuti in questa nuova live, oggi analisi pre-drop veloce perché alle tre c'è la squilata di vibri e lì bisogna essere live di nuovo insieme a commentarla, quindi facciamo una cosa molto easy, veloce e simpata come sempre perché noi siamo simpatici Aspetta Allora, intanto che si collega qualcuno, io, aspettate, intanto devo carriere il telefono perché ne pole più Ok Ciao carissimi Buona storia con Miss Allora, 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 allora Aspettiamo un pochino di gente, nel frattempo oggi drop list, fai vedere, fai vedere, non ho ancora guardato Drop list bruttina, però ci sono le famose magliette estive che Supreme fa sempre drop nelle magliette, fa un drop più o più di uno comunque di magliette estive in cui in un unico drop ci sono tante t-shirt con fantasie diverse Anarchy, anarchy, stream camp cap C'è un'altra volta proprio tranquilla, c'è, c'è Ci sono cosette un po', un po', però vabbè ci sta, ci piace Aspettiamo qualcuno e poi si inizia Live analisi Supreme per cause Dunque, 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 intanto, innanzitutto, prima di iniziare Fa abbastanza cagare anche questo drop, però va bene, dai, ci piace così Escono questo giovedì, Federico 2000, ciao, benvenuti in live Escono questo giovedì, sì, domani Domani si fa, infatti domani mattina noi siamo in live co-op qua sul canale YouTube Ragazzi, cioè, faccio proprio la live alle ore 11 e mezzo Si prova a prendere come tutte le cose, provo a prendere Insieme, insieme, così analizziamo eventuali errori o eventuali co-op che faccio o fate voi E... è buona, dai, intanto faccio una cosa Mi traslo sul sito di Supreme Community Ok, eccoci qua Intanto, ragazzi, benvenuti in live Perfetto, grazie, niente fede E niente, sì, fede E... lasciate un like alla live, raga, mano a mano è entrata Vi ringrazio di cuore E noi ora andiamo, proseguiamo per il nostro cammino Allora, pezzettini, ripeto, che comprendano le t-shirt Cioè, questo drop comprende le t-shirt estive di Supreme Ripeto, ogni tanto Supreme fa dei drop unici In cui butta 5-6 magliette estive, principalmente E lo fa 1-2 volte a stagione E escono tutte, appunto, le fantasie che hanno un po' progettato Ehm... per dire, vedo velocemente qui C'è questa sneak t Che può essere carina Vedete, c'è questa fantasia qui tipo fumetto C'è questa magliettina che ho scritto Supreme Milano E poi c'è la famosa box logo che tutti domani Vogliono prendere perché È comunque sempre una box logo Riconosciuta come tale Anche se Ehm... il box logo, tanto ora andiamo ad aprire La prima cosa che andiamo ad aprire È fatta in maniera tipo Cioè, non... non... È fatta Supreme bianca e rossa classica Ma... Così, fatto tipo appunto di disegnino Col gesso sulla maglietta Però, ora, tanto analizziamo tutto Partiamo da lei Dai, partiamo forte da lei Anche perché, raga, ci sarà una mezz'oretta E dopo alle 3, raga, vi è un'altra live Dove si fa... Ehm... L'analisi Cioè, l'analisi Si guarda insieme la sfilata di... di Barbary Di Barbary su Instagram La fanno E la guardiamo insieme La commentiamo insieme Ora si parte forte anche con live e sfilate Mi sono perso la Milano Fashion Week Ma per la Parigi si rimedia E... quindi facciamo tante... Tante... so, 5-6 live e commenti delle sfilate Dei brand un pochino più famosi Tipo Dior, tipo Hermes, eccetera, eccetera Bellina? Allora, questa colorazione qua è verde E... qui mettano solo la verde In realtà ci sono tutte le colorazioni classiche Ora, magari in serata aggiorniranno anche la pagina Comunque le solite E... grigia Nevi E... bianca E... nera Tra l'altro bianca Non so se ha il logo bianco sopra Non lo so quello E poi nera quella sicuramente E... intanto, allora Marco Ciao, vorrei sapere il prezzo giusto Per una box logo Neighborhood Quella con il simbolo dei pirati Grazie E... Divert Prod Scusa, sono in datore Sei riuscito ad avere il ticket Ciao, Vert No, allora Su questa qua Su questa uscita Non ci avevo nemmeno provato Perché non sapevo Ci avevo letto Uscivano le magliette Le magliette estive Ma non avevo letto Che sarebbe uscita la box logo Ce l'ho letta poi dopo E quindi Non l'avevo provato Io provo solo quando c'è la box logo Quando andava a Milano Anche perché Ce l'ho un po' più lontano Marco Il prezzo giusto Per una box logo Neighborhood Cioè non lo so Quanta euro sul mercato Comunque semmai dopo Ti do un occhio E ti faccio sapere in privato Su Instagram Ecco Se mi segui Ti scrivo su Instagram E... E se ne parla un secondo dopo Allora Intanto Ripeto Questa colorazione qua È la verde Poi ce ne sono altre L'altra volta Ragazzi La box logo È uscita al prezzo Di 48 dollari E quindi Quanta era 55 euro Mi sembra 58 euro Ehm Questa volta Io spero sia Sui 44 euro Grande Alessio Sempre presente Grande Chris Grazie ragazzi Intanto per chi sta entrando Raga Vi chiedo semplicemente Un like alla live Per supportarla E ti ringrazio Che colorazione ti piace Allora Chris A me di questa qua Se le facessero Bianca Col box logo Nero Per me è pazzesca È la più bella di tutte Ehm Non so se esiste Bianca col box logo Nero Perché io vedo Questo box logo Bianco Su tutti i colori Ehm Allo stesso tempo Dico se esistesse Ora stasera Usciranno tutti i mockup Definitivi Quindi in serata Sicuramente Si vedranno Però per ora Io commento Quello che ho davanti Capito capito Io ho il 465 In coda Ma mi hanno messo Di giovedì Com'è possibile Che non facciano Così tanti All'opening Avevo il 242 Ed ero di venerdì Tardi Vert Perché evidentemente Hanno capito Che sono più le buche O più la velocità Che hanno Nel fare entrare le persone Rispetto a Diciamo La linea Che avevano il primo giorno Il primo giorno Era per capire Un po' le cose Quando uscì La box logo Milanese Per intenderci A oggi invece Hanno capito Che almeno Che ne so Si schiappano 500 persone Il primo giorno Tanto 100 Non ci vengono 50 non ci vengono Quindi sono già 4,50 Per lì se ne prendono 500 E quelle 4,50 Se ne smistano Cioè voglio dire Oh è veloce Entri Dici cosa vuoi Tattà Paghi Vabbè via Cioè non è che c'è da fare Le imprese Sì che io penso Si siano organizzati Abbastanza intelligentemente E veramente Non ci ho provato Non ci ho provato Comunque sto avendo Una maledizione Su queste robe Vabbè Ci proveremo online E anzi Faccio la live per tutti Quindi domani All'undici e mezzo Voi mi trovate qua Su YouTube Online Sul canale A fare live cop Case per iPhone Ora Come vedete Questo case È sempre di quella Grafica Che c'era riportata Anche negli scorsi lanci Su quelle Come si chiamava Su quelle cose di ceramica Che era il pose a cenere E poi la tazzina Di ceramica Per intendersi Quelle limitate Ed è la solita grafica Solo che questa volta È colorata Di là Era bianca Con il loghettino rosso Della scritta Supreme È tipo Il negozio Di non so cosa Da dove è nato Ora Questo 190 buer Penso sia la strada Appunto E È la cover per Dicevo Soltanto iPhone 12 Mini iPhone 12 E 12 Pro E Pro Max Cioè io che ho il 10 Per dire questa Non la potrei prendere E quindi la prenderei Sì ma nel culo Perciò Raga no Allora intanto Votiamo positiva Ovviamente La box logo Questa È considerata Ripeto box logo Eh raga Ma questa Anche se Non c'ha il logo Ovviamente bianco e rosso Però è considerata box logo Perché è sempre Con la stessa grafica E non mi fa impazzire Eh questo Ve lo dico ora Non è che è una Delle mie preferite Però si prende Perché si prova A prendere Perché è sempre La box logo Quindi case Raga Solo per discriminazione Personale Può essere anche bellino Ma discrimina molto Io che ho l'iPhone 10 Quindi voto negativo Poi escono Ripeto Queste malettine estive Malettine estive Una è questa Supreme Milano Dal 1994 Sembra tipo una gelateria Bar pasticceria No raga Supreme Milano Dal 1994 Con amore E c'è No non mi piace Ma non mi piace Nemmeno il fatto Che c'è scritto Supreme Milano Poi dal 1994 Perché il brand Perché il brand Sì è dal 1994 E c'è Ma New York Cioè se ci scrivi Milano Non ci puoi scrivere Dal 1994 Questo dico io No Quindi Non mi piace Questa concezione Anche di scritta Oltre che Vabbè Fonte Vabbè Non Non mi proprio No Ovviamente Tutte queste malette Che vedete Non escono Solo gialle Arancioni Per di nere Ma hanno varie colorazioni Ogni singola maletta Quindi ce ne sarà Se volete comprare la maletta Domani Vogliate Di comprare la malettina estiva Milano T Perciò la votiamo Negativa Anche se Vedo è stata Abbastanza apprezzata Questa cos'è Augustus Pablo T Questo sarà Un qualcosa Non lo so Un Qualcosa Che io Non associo C'è un film Non lo so Una serie Di qualcosa Una foto Famosa Non lo so Comunque Non è brutta Però Non mi dice nulla Quindi la voto Negativa Questa La Snake T Poteva essere carina Poteva essere carina Come colorazione Come idea Per una malettina estiva Tranquillissima E intendo Io c'ho la Crazy Frog T Che era quella Con tutte le rane Stilizzate Per di La presi come malettina estiva Normale Però l'unica Non mi piace via Questo serpente Che sulla base Viene tagliato Cioè E poi è scontornato Veramente da schifo Ecco Questo Mi fa un po' cacare E non mi piace Nemmeno Il font Così Cioè È bellino Poteva essere bellino Però Boh Cioè Poi c'ha questo Questa traccia Si chiama traccia Il contorno di ogni singola lettera Che fa Fa un po' schifino Davvero È troppo Non so Troppo pieno Mi sono un po' cicciottello È brutto dai È bellina l'idea Ma è fatta male Poi graficamente È strano eh Perché voglio dire Non è che ci voglia la B Cioè Che ha più un grafico Ma Va così Ed è Mi dispiace Era bellino Ho voluto Votare Positiva E invece Mi dispiace Raga Ma voto Negativa Anche questa Poi ci sarà I copriletto Copriletto Estivi Vi spero Perché invernali Cazzo Ah Copriletto Camo Che sono le stesse fantasie In cui ci facevano uscire I Richiamo Trackpants Però sono I pantaloni Insomma Militari Che sono usciti Proprio con Questa Queste grafiche Queste grafiche Qua mi ricordo Nella collezione Forlwinter E Quindi Cosa Vi dico Fateci la foto Insieme Mettete il copriletto Vi sdraiate sopra Foto Col pantalone State a 10 No Non mi piacciono Bellina l'idea Però eh Questa è bellina l'idea Del copriletto Un po' così Ma chi cazzo Se lo mette in casa L'unica Secondo me bellina A livello di indossabilità Potrebbe essere questa Che non ha niente Di particolare Ecco Cosa c'è scritto Does it work Yes It works Ok Ok Vuol dire tipo Funziona Sì funziona Beh Ok 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 Va bene Ci piace Allora questa si vota positiva Solo perché Boh fumettosa Non ci sta Solo perché L'abbiamo votato E quattro negative Una positiva Solo per Sostegno Sostegno morale Bravo su Pimpigia Allora Dai scherzo raga Comunque Marzupietti Da venditore ambulante No questi sono brutti Questi sembrano fatti No raga Senti questa video Madonna Senti che abbinamento Che fa Questi sono Sembrano Fatti con le Scooby-Doo Voi ve li ricordate Le Scooby-Doo Intanto vi ho fatto 250 pagine Aspetta Facciamo un'altra cosa Vi apro Un googolino Tremendo Un googolino Eccolo qua E vi cerco Scooby-Doo Ma gli Scooby-Doo Non il cane No 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 Ferma lavori Scooby-Doo E portachiavi Vedi Portachiavi Eccoli qua Guarda qua C'hanno la stessa trama Eccolo qua Come fare uno Scooby-Doo Queste sono C'hanno la stessa trama Identica Guarda qua Qualche lavori Questi qui usavano Alle medie Tipo Che in realtà è tipo Tela canvas Però È brutto C'ha questa idea qua Da gommosa Un po' così No fa schifo Dai Veramente Bellino il box logo Ma nemmeno troppo Perché mi sembra più cicciottello Anche del solito È compatto Come il box logo Quindi non mi calma Nemmeno perlo Boh Niente Questi non ci siamo Sembra poi A me questo stile Da borsello Tipo benzinaio A me non mi è magari bato Poi Pareri personali O niente Discrimina niente Sono cose mie Ognuno ha il suo stile E le osi Li piacciono Di più e di meno Magliettina Anarchi Questa Raga È Normale Via Magliettina Anzi Bellina Perché è colorata C'ho lette colorate Di Supreme Non c'ha nulla E Se Dovessi dire La metteresti Sì Non è che Mi fa schifo Però Di Supreme Non c'ha po' nulla Ripeto Comunque Tutte queste Magliette Vedete Ora sono In tutte le Le varie azioni Ora è tipo Purple Poi ci sarà Bianca Che ne so Beggiolina Mettano 4-5 Colorazione A maglietta Sempre Sicuro Votiamo la positiva Dai Più che altro Mi ricorda molto La scritta Frienza Per i dati Presente E quindi Sì È un po' Bravo Il borsello È anche un po' Giamaricano Paiono fatti All'uncinetto Da minonna Sì Paiono fatti All'uncinetto E Abbinata Al borsello Vi ci danno Anche la borsa Da mare E questa Sì Che è Uno Vada In realtà La nera Guarda Per andare a fare La spesa Non è nemmeno brutta Tanto La borsa Comunque classe L'S lunga L'ipercop Voi ce la dovete Tenere in macchina Per andare a fare La spesa No Questa Jamaicana A me non piace Ve lo dico Cioè Proprio No Troppo Too much Però questa Nera In realtà È bellina Dai E come Borsetta È carina Il borsello Non lo prenderei Vedete Qui No Questa Sia solo Davanti String Tote Tote Perché Il tote È il modello Della borsa Io Comunque Lavorando A contatto Con le borse Quindi vi dico Tote bag È proprio Questo modello Fatto a Sono le borse Da spesa In realtà Sono proprio quelle E quindi È stata Ideale Sono larghe Appunto E ci hanno Tanta capienza E in realtà Io voto positivo Questa Perché Borsa Vole voto Votato Negativo Questa invece Va bene Con la stessa Grafica Dell Dell'iPhone Case Ci abbiamo Anche le camicine Ora Qui l'hanno Esagerata Perché Quella Normale Con colori Tranquilli Ci può anche Stare Guarda Ci può anche Stare Ma questa Così Color paletto Tutta rossa Ti fermino Cosa vuol dire Non capire Cioè sinceramente Alle volte Fanno delle osse Che stessero Fermi Io Dio sempre Stessero Fermi Andrebbe Tutto meglio No Vogliono Esuberare E non va bene Con questo Ci va a vedere Le Ferrari Armugello No Maranello Scusate Scusate E Niente Quindi negativo Cappellini Ci danno anche Dei campellini Campellini String camp cap Cappellini che Sono Io C'è questa trama Madonna Ma Lì Erba Ossittanto Eh Lì Erba Ossittanto Andate che stai a lavori Maremma Puttana Ma poi Mi fanno anche caldo Mentalmente Se ci pensate Che Sembrano proprio Fatti Senti Della lana Magari cotone Però quella lana Spessa Poi Mi danno noia Anche visivamente E Non posso dire Che poi Estetivamente Siano brutti Perché comunque È un nuovo modo Cioè Solitamente te li fanno Di cotone E Normale Con la box logo E quelli son bellini Da morì E l'hanno riproposti Questa volta Te li fanno di tela Sempre col box logo Non posso Di son brutti Eh Però io Tra queste e quelle normali Piuttosto Un problema normale Cioè Non lo so Voi cosa ne pensate Questi miei Lo so Non mi vincano Se mi hanno fatto All'uncimento Dalla mia nonna Mi dice Chris E' un Mi garbano Sono combattuto Queste Voterei Uguale Non su Non giù Una sabbia di mezzo Però voto Più giù Che su Poi Lightning Questa che cazzo Maia Accola Dei stare a lavori Lightning LST Long sleeve T E Long sleeve T E Cos'è E' tipo Le prime di Vetmon Sono Le long sleeve Di Vetmon E' perché c'avevano una scritta Vetmon Così sulla mania Io non so se voi Ve le ricordate Comunque E' quella C'è proprio la scritta Un po' tribale E' una long sleeve Di Vetmon Cioè Fatta ovviamente Molto più brutta E' chiaro Quindi Voto negativo E Questo Old English Wrap Hooded Sweatshirt Cotton Flitch With Twin logo Appliqué Questo quindi Cosa c'ha Un logo Per vedere Ah parte da Ah il logo E' rilievo E' raga E' una felpa Classicissima Con logo E' rilievo E parte Praticamente Dal fianco La scritta Supreme E ti termina Sull'altro fianco Infatti vedete Qui c'è la S E qui c'è la E Finale Che riarriva Sull'altro fianco E tutto passa Dal dietro Boh No C'è infatti 566 Dislike E noi ci vogliamo Siamo il 567 Dislike Siamo noi Insomma Io voto Per tutti E sto votando Io ovviamente Poi se volete andare a votare Anche voi Il sito è quello Lo stesso Ci ripropongono Su pantaloni E mi sa molto Di Yakuza C'è proprio La mafia Assai spuderata Si diciamo Comunque E In realtà Da fighting Sembrano pantaloni Da lotta Non lo so Boh No No Perché non Li spendo soldi Per questa roba Si perché Graficamente Poi Non è che Però Debo No C'è proprio Brut No Allora Cappellino alla Bob Poi ce li ripropongano Anche così Cappellino alla Bob Bob Marley Guarda va Giamaicano Non si bellissimo Cioè ti metti Ti metti Cosa ci aveva Abbinato La borsa Il borsellino Al primo posto di controllo La polizia ti ferma Subito Cioè proprio Vai c'è il Mario Si vai Ti vai Cappellino Nella borsa Li E poi guarda Se in macchina Non ti ferma La polizia Mamma E E nulla E poi Quei l'altro Sono cappellino Che Questi sembrano Proprio da Da Jack Mousse Proprio Mi danno l'idea No Di campi feriti Di lavanda Dove vai a raccogliere La lavanda Non so se avete presente Jack Mousse Il brand francese Che si ispira Tutto Alla natura Alle cose Alla lavanda E quindi Niente Mi sembrano cappellini Molto puliti Da Da Shooting Con le balle di fieno E Più da donna Che da uomo Devo essere sincero A parte questo giamaicano Che è quello Raga È una tragedia In essere Quindi votiamo Dislike E poi cosa abbiamo Ma questa l'avevo già votata Perché questa Vuol dire che allora Doveva già usci E non era uscita Infatti Avete capito Che mi era piaciuta Non la sto nemmeno A riaprire E l'ultimo pezzo Per ora Per questo drop È Questa Io Faccio le mie osservazioni Poi non sarà mai Però questa Camicina Per entrare Prima del ring Da box Non so Non so se ci avete presente No I tutti I boxer Ci hanno un po' Le cose Le maglie lunghe Ci hanno la loro divisa Prima di entrare sul ring E poi se la levano Ci hanno Il fisio E quanto ne basta E sembra una roba del genere Anche perché lo fanno Sempre con questo Come si chiama Con questa tipo Come la chiamano Poly Deslo E let mesh Questa tipo Seda Non so cos'è Seda Può darsi Colorata così Platinata Classica Da box Proprio E poi c'ha Anche tipo Questa tuta Traforata A me riguarda tantissimo La box Con La cosa Suprime Io Ti dico Questa vidorata In realtà Non è brutta Anche quella nera Guarda Non è brutta Perché ora Poi la dovete mettere Nel giusto contesto Vista così Su una cruccia Fa caccare Però Non è brutta Perché se voi fate Magari un video Prendete ad esempio Un video Non so Come dire Di un cantante Qualcosa Cioè Se voi l'avete addosso A una persona Che rispettate Ok Secondo me Rende questa cosa qua Chiaro Messa magari Da me O da voi Può Cioè Può essere difficile Ci può andare al giro Però magari In un contesto Di video Di idea Ci sta Come Come Cosa Sì Sì No Bruttissima Non è Guarda Vesta la voto Piacevolmente Su Contro I 639 Che invece Mi hanno dato Contro 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 E ritorniamo quindi Al pezzo forte Pezzo forte Il nostro dolce Quindi Prima di Chiudere la live Che manca 4 minuti Poi ripeto Alle 3 ragazzi A riavviare un'altra live Perché si guarda insieme Per chi vuole Comunque La La spilata di barbari Che la fanno ora alle 3 Perché è partita la Parigi Fashion Week E noi ora ci concentriamo Anche a fare le live Dei brand Ma da mano Che loro Sfilano Quelli più famosi Ovviamente Tipo di Horror Mess Louis Vuitton Barberi Barberi Vitmon Valenzaga Non so quando Sfilerà Comunque Quelli lì Quelli lì E alle 3 ora C'è quella di Barberi La facciamo La guardiamo insieme La fa su Instagram Tra l'altro Live Però Prima di Dire quello Vi dico appunto Che domani Siamo live 11 e mezzo A provare A prendere Questa malettina Io Ripeto Stasera mi guardo In mockup Se ci fosse Quella bianca Col box logo Nero Se ci fosse Provo quella Se non ci fosse Quella Provo una grigia Se c'è Quelle due Sono le più belle Secondo me Grigia Con questo box Colo piettino Bianco Secondo me È devastante E poi Magari A uno piace Anche quella Nevi Ci sarà anche Un colore Bluastro Di sicuro Ci sarà Secondo me Anche un purple Potrebbe essere Anche un purple E poi Non l'ho visto Veramente Ipotetici Mockup Colorazione Quindi Tutto Io guardo Stasera Insieme E il prezzo Ripeto Spero sia 44 euro Anche se penso sia 58 Anche per questa Magliettina Qua Comunque Anche quello Stasera Lo vedete Su Supreme Community Oppure su Pagine Instagram Che voi seguite Tipo Drops by Jay Supreme Community Ma su Instagram E eccetera Per ora Io vi dico Questo Che ci vediamo domattina Perciò alle 11 e mezzo A provare a prendere Questa magliettina Insieme E E poi Tra mezz'ora Invece Per chi rimane qui con me Si guarda La sfilata di Barberi Insieme E si commenta Un attimo Quello che vediamo Di pezzi Di idee E di Insomma Quello che Mi traspare Dentro di me Guardandola E ovviamente Anche voi Mi potete dire La vostra opinione Perciò Io qui Interrompo Questa Live E vi ringrazio Per essere passati Quanto meno A farmi un saluto E essere stati con me Domani mattina Comunque Ci rivediamo 11 e mezzo Un bel like Al video E iscrivetevi al canale Se ancora non vi siete iscritti E noi ci vediamo Tra poco Per chi resterà qua Su YouTube A seguirmi Bella raga Grazie a tutti